Ben ritrovati, fra poco una notizia di mercato perché comunque continua a bollire in pentola questo discorso cessioni e arrivi e il mercato italiano è molto molto caldo con giocatori interessanti che piacciono all'estero. Detto questo, caro Ezio Morina, ogni promessa è debito, Scaroni qualche giorno fa ha detto una cosa che tu dici Scaroni, perché Scaroni è quello tutto d'un pezzo, Maldini poi gli dice che non è un presidente che andava via prima che finissero le partite, no? Quando Scaroni ha parlato di Maldini che non era felice, ecco, quindi è quello Scaroni un po' rigido che i tifosi non identificano come o presidente mio presidente, però quando parla io non me l'aspettavo perché dice, testuali parole, io conosco a Milano un solo club, altri non ne conosco, ovviamente questo club Lì è proprio una roba da tifoso. È il Milan. Caro Morina, cosa ne pensi? È quello che il tifoso vuole sentirsi dire è una persona intelligente, fa il presidente. Ma i tifosi però non sono così stupidi, eh, dai. No, ma qua non è questione di essere stupido. Sì, è questione di essere stupido. Prima hai detto che il tifoso si aspetta di sentirsi dire bisogna vincere, bisogna lo scudetto, eh, la Juve deve vincere. Aspetta che finisci. Riesci? Prendi fiato. Però mi stai mettendo a dura prova. Eh, eh, anche tu a me. Quindi, detto tutto questo, sappiamo la rivalità che c'è tra le squadre cittadine, che sia Milano, che sia Roma, che sia... Ti è giusto, ti riempiono il cuore, Scaroni ha riempito il cuore, invece... E tu dici, è strarito. Perché ovviamente sei intervisto. E non avrai bisogno di essere più pieno di quello che sono. Io avrei risposto a Cardinale. Invece, da parte nostra, per fortuna che c'è Milano... Non era Scaroni, non era Cardinale. Così almeno si possono alzare in faccia gli scudenti. Però, allora, ha ragione, Morina, hai ragione, però io credo che il tifoso... Adesso, passatemi questo termine, è voluto, no? Ma che non è voluto, guarda, anche quello meno è voluto. Ma tu sei pessimista. Ma no, ma non che non sia evoluto. Lui è quello che dice che il Milano arriva a decimo. Che uno non esce dal... che uno non sente come... Un conto fosse il presidente tifoso... Non lo capito, lui non l'ha apprezzato. Lui non l'ha apprezzato. No. Tu lo facciano. Ma guarda che quando sei a Torino c'è il satellite, qui c'è la diretta, quindi dovresti essere un po' più impegnato. No, ma non avevo capito bene. Nel senso che io... No, ma no, ma sono d'accordo con te, perché... Perché effettivamente anche io quando l'ho letto ho detto, ma perché devi fare un conto di tifoso? Ma poi scusami, no, Marcello, Marcello, 125 anni di Milano, non era mai successo sei. Dico sei... Nervi persi. Persi. Aspetta, due gol fatti e diciotto subiti. Cioè non è che dici... Giulio, non c'è coerenza delle tue parole. Ma perché quando c'erano Fassone e Mirabelli le cose... Allora, il presidente della Juventus deve dire noi vinciamo lo scudetto. Il presidente del Milano invece dice a Milano c'è la squadra... Ma non puoi dire che c'è una sola squadra e non è con uno squadro. Ma ha fatto il tifoso. Ma no, ma c'è un modo di fare il tifoso. È un presidente che di fatto non c'è. Sei arrivato, scusami, sei arrivato secondo per l'ennesima volta a 20 punti dall'Inter. 20 punti dall'Inter. Però hai vinto uno scudetto. A un attimo, scusate. A gennaio eri già fuori dalla Stella. La Stella non vuol dire il campionato. La Stella è una cosa... Già avevamo... eravamo in ritardo di 10 anni con la prima Stella perché l'Inter la vince nel 67 e il Milan la vince nel 2000... Nel 1900... Con Lido. Con Lido, esatto. Pensa che noi nell'82. E lo so, però anche voi siete belli cartonati. Poi la 15 è la Stella. Cartonati per cosa? I famosi due scudetti quelli... Ce l'ha tolti? E' appunto. No, però voi li avete inseriti. Non rientriamo in quel discorso lì. Per carità. Allora, era fuori dalla Stella. Era fuori dal campionato. Era fuori dalla Champions League. Era fuori dalla Coppa Italia. Era fuori da un'altra... Adesso non mi ricordo. Ma ho capito, però. Tu hai vinto uno scudetto. Voglio dire, comunque questa gestione... L'ha perso i zaghi quello scudetto. E adesso non può gonfiare il petto e fare il tifoso. Noi a Milano siamo abituati, purtroppo. Poi siamo nostalgici di Berlusconi e Moratti, no? No, io sono. No, quando sapevano fare rivalità cittadina con un certo spessore, no? Sempre per il rispetto, eccetera, eccetera. Scaroni non mi sembra che sia l'idolo dei tifosi rossoneri. Anche perché l'ultima volta che ha parlato... Ma c'è qualche dirigente del Milan che sia idolo in questo momento? No, no, però secondo me ci sta... Cioè, vuoi fare il tifoso? Fai il tifoso tranquillamente. Non fa né caldo né fede, tanto se tu dici così non è che cambia la vita, no? Cioè... Ma vedi, allora, a me piace anche che faccia il tifoso... Però a te l'interista infastidisce. No, ma... Ma sono lontani anni luce, irraggiungibili. Irraggiungibili, irraggiungibili. Ma la domanda è, Alessio, ma la domanda è, al di là che abbia ragione... Io ti voglio anche dire che il Milan, invece di quello che diceva Furio, delle stelle acquisite in ritardo, dei sei derby persi, dei venti punti, fosse l'Inter. Cioè, che un presidente dica c'è solo una squadra... Cioè, può far felice la squadra, no? Un presidente dovrebbe essere più misurato, sicuramente. Però a me, tifoso, sento il mio presidente, perché è il presidente, dice una cosa del genere, mi gonfio il petto. Scusate, se il Cairo dicesse a Torino esiste solo una squadra, cioè... Beh, però... Ma non avrebbe avuto nessuna argomentazione. Lo dicono, che la prima squadra di Torino... Sì, ma non che esiste solo una squadra. Allora, Elena, è un'uscita fuori luogo, è fuori luogo perché la dice un presidente che non è riconosciuto come tale dai tifosi, e quindi non si riesce neanche a sorridere, perché? Se lo è, se è un'uscita fuori luogo per te. E' un'uscita, secondo me, fatta in un momento sbagliato, perché la potrei vedere pre-derby. Un po' come diceva Riccardo prima, che quando c'erano Moratti e Perlusconi si facevano le scaramucce simpaticamente pre-derby, no? In questo momento la vedo fuori luogo. Cosa c'entra l'Inter? Adesso le squadre devono pensare a fare il mercato. Quindi io, la tifosa, preferisco sentirmi dire dal presidente che mi comprano un nome di un giocatore che possa servire per il campionato. Perché Elena c'entra perché comunque c'è sempre la rivalità cittadina. Ma qui a Milano la gente, guarda, che è particolarmente permalosa, soprattutto i milanisti, perché Milano ha delle caratteristiche come città che poi dopo vengono traslate nel calcio, dove devi ottenere risultati. I risultati non vuol dire solo vincere, perché c'è anche un problema... Prima l'hai detto anche della Juve. La Juve deve vincere, hai detto tu. La Juve deve vincere e ha i presupposti per vincere. In questo momento non mi sembra che il Milan abbia fessi presupposti. Allora, quindi è l'uscita... Chirico, al di là che fosse inopportuna a prescindere dal livello di partenza del Milan, però ci sono i tifosi milanisti che vogliono vederci chiaro anche su questo mercato. Quindi tu in un momento già sono lì col fucile puntata, gli fai una dichiarazione... Infatti è tutto funzionale, nel senso che tu mandi avanti Ibraimovic così gli indori la pidola, poi gli dici atto a Milano, esistiamo solo noi. Sì, è vero, gonfieranno anche il petto, però quelli intelligenti dicono sì, vabbè a me non me la dai a bere però, perché francamente quello che stai facendo non è... Ma infatti anche Furio, che è tifosissimo del Milan, comunque non è soddisfatto. Ma ha vinto uno scudetto, ha vinto uno scudetto, hai perso... E comunque l'Inter ha fatto molto meglio, fra parentesi, cambiando quante proprietà... Tre proprietà, trovandosi in una situazione addirittura dove ha rischiato, perché non pagava gli stipendi, di essere sanzionato o forse ancora peggio, dove era sempre costantemente in difficoltà, perché Elliot, Elliot che poi ha risanato il Milan e l'ha fatto diventare una società quanto meno solida sotto il punto di vista finanziario, poi dopo però tu non hai sfruttato le debolezze dell'Inter, debolezze, gravi debolezze dell'Inter, e in questo momento non sei certo, non solo non sei l'unica squadra di Milano, ma non sei neanche la prima. Caro Riccardo Fusato, allora... Le nubi, vediamo le nubi, vediamo se sei così brava da trovare in un'estate in cui l'Inter di fatto ha già fatto la squadra, se riesci a trovare le nubi. Allora, prima di tutto, secondo me è stata un po' troppo... Voglio farmi cullare. Ma a parte che, scusa, Lautaro Martini si è rinnovato, no? Lautaro Martini al sera. No, ma mi fa ridere perché è da febbraio che deve rinnovare, che mi dite che cosa ha fatto, non tu, eh? E io dico, finché non vedo nero... Vabbè, comunque, vabbè, Lautaro Martini... Questa è una nube che abbiamo... E va bene, è una nube. La grande nube... Inzaghi avrebbe voluto un anno in più di contratto, lo sai, gliene avete fatto solo uno. C'è un bonus molto importante. Però è un'altra... Piccola, ma io piccole... Piccole crepe, sì. Piccole crepe. Di un idilio piccole. E poi, secondo me... Ma no, ma qua non c'entra l'Inter, l'Inter è fortissima, ha un gruppo solidissimo, però le dirette concorrenti, secondo me, ma è una mia opinione, si sono rinforzate. Cioè, un Napoli con Conte, già solo che dici Conte, è più forte. Sul Milano ho dei dubbi, devo dire la verità perché voglio vedere a campagna acquisti ultimata, proprio perché non c'è quel... Ci sono delle belle nubi, eh? Ecco. La Juve, la Juve... Anche lì, però sicuramente la Juve di Allegri era... Io ti dico... Il reparto del centrocampo lo stanno completamente cambiando. L'ho detto già settimana scorsa, qui non dobbiamo nasconderci dietro un dito, l'Inter è la favorita per lo scudetto, ok? Quindi è inutile dire... Il tuo allenatore non lo dice. Beh, ma l'allenatore, sai, l'allenatore dice qualsiasi cosa per... Comunque, secondo me l'Inter è la favorita per... Io sono orgoglioso di avere la squadra più forte sulla carta. Detto questo, tu hai detto, le avversarie si sono rinforzate, anche l'Inter si è rinforzata. L'Inter ha preso Tremi, che non sarà il giocatore da 40 gol, però è il giocatore che di fatto l'anno scorso un po' è mancato. Perché nel momento in cui gioca Arnautovic, vedevi che c'era un gap diverso. Tremi è un giocatore che ha esperienza nazionale, ha comunque anche segnato sempre tanti gol in Champions. E poi, secondo me, ha trovato l'alternativa giusta a Mkhitary, anche a Zelinsky. Quindi sono due giocatori che, messi in un contesto del genere, possono sicuramente... L'Inter ha due squadre vere. Per la prima volta, negli ultimi 3-4 anni, non si è dovuto rinunciare a un big. E quindi questo, secondo me, è un altro vantaggio. A differenza delle altre squadre, come si diceva prima, ha un modulo di gioco, un allenatore che è qua da diverso tempo. Tra l'altro, notizia di stasera, dovrebbe andare in porto anche il no di Dumfries. Quindi anche Dumfries rinnoverà il contratto. Dopodiché, vediamo cosa succede da qui a fine mercato. Perché, secondo me, all'Inter sono ancora convinti di poter fare un attaccante, per esempio. E poi servirebbe il vicebastone, si dice, il bracetto di sinistra. Il vantaggio rispetto all'anno scorso, dove tutti si è trovato a un certo punto spalla al muro, al muro nella questione Lukaku, hai delle esigenze numeriche, non tecniche, secondo me numeriche, e puoi fare sicuramente il mercato tranquillamente, anche perché manca ancora un mese e mezzo. Quindi, di fatto, secondo me, l'Inter è competitiva. Il tifoso, se parliamo del tifoso, dice, sì, bello, si vince lo scudetto, però quest'anno, da critico, da avvocato del diavolo, mi aspetto un passettino in più in Champions. Un passettino in più in Champions, in una Champions che sarà nuova, quindi oggi non conosciamo le nuove dinamiche, perché tu sai, ci sarà un gelone unico, ci sono due partite in più, si giocherà il giovedì a gennaio, quindi è una stagione un po' nuova sotto questo profilo, però mi aspetto sicuramente un po' più di strada in Champions. Quest'anno ci sarà questo girone unico, dopo ci saranno subito le eliminazioni dirette, quindi qualcosa di più in Champions me lo aspetto, però, ripeto, secondo me... Sì, è difficile trovare crepe, allora, è vero. No, crepe, guarda, ti posso dire una cosa, l'unica crepe che posso dirti è la difesa in centro, cioè noi oggi abbiamo De Vrai e Acerbi che hanno la loro età, però non la mi esclude il fatto che Inzaghi possa pensare di postare bastoni al centro. Ma vediamo la formazione, infatti, perché sicuramente poi c'è questo portiere del Genoa che dovrebbe crescere sotto le ali di Sommer e poi spiccare il volo. Questo però è importante, cioè questo non è trascurare, però, attenzione, perché è un acquisto oneroso, perché è stato pagato 14 milioni. No, a me fa ridere... No, hai ragione, certo, ma perché in prospettiva sarà, vista l'età di Sommer, a me fa ridere che questo è ermoso... No, allora, c'è un... L'Inter, l'allena... Tutte le grafiche. L'Inter, l'Inter... Le grafiche c'è. Il portiere titolare ce l'aveva già ed era quello che poi dopo è stato venduto per 4 milioni al Monza. Che è Di Gregorio. Di Gregorio. Sì. E tu hai pagato un secondo portiere 14 o 15 milioni. Sì, no, non quest'anno però l'aveva Di Gregorio, eh, due anni fa. Due anni fa? Ma dove, appunto, sono passati solo due anni, doveva essere... Forse tre, forse tre. L'ugimirante. No, no, però... Vabbè, arriva Sommer, eh, d'accordo, l'anno scorso arriva Sommer. Ma in realtà, in realtà, Ezio, scusami, Furio, il portiere, cioè l'Inter, l'investimento sul portiere l'aveva fatto, che era un'ana, ok? Quando Di Gregorio diventa del Monza, l'Inter prende un'ana, poi che un'ana abbia fatto una scelta di vita diversa, però c'avevamo... Un'ana è stata la grande fortuna di una rotta. Detto questo, però, detto questo, il discorso qual è? Beh, in difesa, però, qua, in difesa noi mettiamo Pavard, mettiamo Acerbi, mettiamo Bastoni, eh, o Rodriguez... Perché Ermoso? Perché Ermoso è un giocatore maruttiano, se proprio vogliamo dirla, perché è un giocatore che non è assolutamente vecchio, che ha 29 anni, ha esperienza internazionale ed è un parametro zero. Quindi è ovvio che interessi a diverse squadre. Non dimentichiamoci che l'Inter prende Acerbi a zero e gli stessi tifosi dell'Inter urlarono al disastro. A questa fu una grande intuizione di... Però è Ermoso, appare, perché non voglio neanche leggere l'altro nome. E il V... No, Rodriguez non lo vuoi, l'ex Milan mi pare sbincolato del torno. Allora, l'Inter si era portata al Milan come ideologia, perché Oktri è molto simile a Red Bull come ideologia. Cioè, oggi loro ti dicono, tu prendi un giocatore 29enne a cui magari gli dai 4 milioni e mezzo di ingaggio, piuttosto vogli un giovane da far crescere alla Bissec, per intenderci, no? Quindi lì si sta discutendo un attimo. Ma è davanti, scusa, c'era qualcuno? No, davanti c'è il problema Arnautovic, perché se l'Inter vuole il Gudmundson del Genoa, deve andare a cedere a Arnautovic. Però Gudmundson, il Genoa, Zangrillo, ti ha detto che, insomma, loro non vendono la frutta. Ma non gli puoi preporre una carota e un peperone. No, queste sono dinamiche di mercato normali, però è normale che una società in cui cerca lo sfizio con tutto il rispetto, perché oggi se l'Inter non prende il Gudmundson non è che crolla. È ovvio che cerca di strapparlo alle migliori condizioni. Ma allora, io voglio capire... Ma Correa? No, Correa è fuori dal progetto. Correa è un altro Ken. Ma Lautaro Martinez è da pallone d'oro? No, io secondo me lì andiamo sull'esagerare. Scusami, ma Valentin Carboni che è un fenomeno che lo vendete? Sì, 40 milioni. No, però ecco, su Lautaro Martinez io tirerei un attimino indietro l'entusiasmo. Ok, ma io poi fino a quando non vedo il... Scusate, ma io tutto questo tergiversare sul rinnovo se era così una formalità che Lautaro ama l'Inter più di se stesso, Milano e tutto il popolo nero-azzurro, avrei firmato da febbraio, hai aspettato la Coppa? Ci sono state delle problematiche, ci sono state delle problematiche, alla fine ha firmato diciamo il venuto incontro all'Inter. Ma ha firmato questo contratto? Ha firmato, l'ha detto il procuratore. Ma sì, ma anche perché se no sarebbe già andato via. Ma perché l'ufficialità non l'ho, anche perché l'avrei festeggiato. Deve tornare dalla... è l'ultimo giocatore che tornerà in ritiro, quindi naturalmente sfrutteranno quel momento lì per fare un video, perché oggi... Qualcosa, insomma, di emozionale. Sai, l'Inter ha cambiato società ancora una volta. Beh, ma gli è andata bene. Gli è andata bene, mica tanto, perché Ocri non sapevi che cosa voleva fare, se voleva... Però, intelligentemente, vedendo quello che succede al Milan, cioè che i tifosi poi sono, se non l'ago della bilancia, fanno comunque la differenza al botteglino, perché ci poteva essere anche, non dico una rivolta, ma comunque una situazione dove vedi che non rinnova Lautaro, devono venderlo, Dunfrid, eccetera, e invece, per il momento non se ne sente parlare a degli uomini, hanno usato la strategia. E soprattutto il presidente Marotta, quella è stata la mossa decisiva. Però Giovanna ha detto, adesso è andata bene con il cambio di società, ma quello che io sentivo raccontare quando è arrivato Zang, sembrava che... Stai parlando di un periodo, di un era fa, eh? Stai parlando del pre-Covid, eh? Comunque, parlavate di una potenza mondiale che avrebbe comprato San Siu, la Exor, tutto. Io ti dico solo una cosa, Suning arriva e spende 75 milioni, lascia stare, poi è chiaro che il campo dà le risposte, ma l'idea comunque, pronti via, spende 75 milioni, prende João Mario e Barbosa, che era seguitissimo dal Barcellona, cioè spende 70 milioni, pronti via, 70 milioni, pronti via, 70 milioni, pronti via, nel regime comunque ordinario, prende due allenatori che sicuramente sono importanti come Spalletti e Conte, quindi poi ci sono stati questi problemi cinesi e ci sono stati problemi. Il problema è che li prende, li prende, emettendo, cioè, chiedendo prestiti, facendo debiti. Beh, comunque, quello che oggi, si può dire che quello che oggi, no, però, quello che oggi è Conte al Napoli, è Marotta all'Inter. Ah no, certo, certo. Perché loro strategicamente cosa dicono? Io arrivo, confermo la dirigenza, perché Basin, Ausidio, Bacin, Antonello, Marotta lo fanno presidente, quindi di fatto tengono la struttura e chiaramente non sarà la proprietà che da qua a qua a 20 anni porterà avanti l'Inter. Però è una proprietà che non stravolge qualcosa che funziona. È una proprietà che va a investire sull'Inter, sperando che, sfruttando anche, non dimentichiamoci che a giugno ci sarà questo mondiale per club, che casualmente, ma non solo, si svolgerà in America, dove Octree ha di fatto la sede, quindi è sicuramente una spinta importante. Non ci sono nubi, Elena, all'orizzonte. Hanno trovato l'ennesimo proprietario fenomenale. Non ho detto che ho trovato l'ennesimo. L'ennesimo proprietario che è la ruggirà. Tu, quando secondo me vedi nero-azzurro, sta chi? Io non ho detto che è un proprietario fenomenale, ti ho appena detto che non sarà il proprietario dell'Inter. Ma sono tutti progetti commerciali, scusami. Guarda che i fondi sono quelli più sicuri. Sì, per loro, perché loro, se tirano fuori 10, devono incassare 12. Ma perché ha detto Elkan ultimamente che se vuole si compra... Cos'è che aveva... No, perché Morina, poi vado a ritrovare quella dichiarazione di Elkan, vuole ribadire, Elena, un qualcosa che ha ragione anche a ribadire. che è vero che i fondi sono sicuri, ma sono speculativi di loro, proprio per loro strutture. Ma sono lì per guadagnare. Nessuno fa beneficenza, neanche Elkan. Ma l'Exor è un Elkan, c'è da solo la Juve. È l'unica rimasta. La famiglia Agnelli. È l'unica che potrebbe comprare le altre società italiane. La Exor è l'unica società che potrebbe comprare altre squadre. Cioè la Juventus ha fatto due aumenti di capitale, perché? Perché c'è l'Exor dietro. Certo. E quindi vuol dire che nella Juventus i soldi ci sono. Ma infatti questo che Morina cerca di ricordare ha fusato e quant'altro, no? Che non devi attraverso i debiti comprarti i giocatori, ma attraverso... Ma quando si parla di ricapitalizzazione, la Juventus, se non prende i soldi dalla tasca destra, li prende dalla sinistra. I pantaloni sono sempre nostri, senza prestiti, senza capitale, senza finanziamenti, senza... Sì, però è più sicura una proprietà tipo quella degli Agnelli, di quella dei cinesi, degli nomesiali, che arriva dopo tre anni. Ma non c'è paracopo. Certo, ma nessuno mette in dubbio quello. Il problema che stavo dicendo io è che comunque... Come? Riccardo, secondo me quello che ha fatto di veramente buono Optree è stato confermare la dirigenza. Perché normalmente quando ci sono dei cambi societari, la dirigenza in qualsiasi tipo di società viene cambiata. Porta i suoi uomini, certo. Perché logicamente chi arriva porta i suoi uomini. E nella differenza di Redbird, scusa. Sì, però a differenza di Redbird, per esempio, perché è il dirimpettaio, è quello che abbiamo seguito di più, Optree arriva di fatto all'Inter, ma già era nell'Inter da diversi anni, perché due soggetti di Optree erano già nel CDA di Zhang, e quindi di fatto Optree ha studiato l'Inter in questi anni. Detto questo, è chiaro che è un fondo speculativo, è chiaro che l'attenzione è a livello commerciale, però sfruttando lo scudetto sul petto, il mondiale per club, la Champions League, è chiaro che quest'anno, anziché vendere i Brods, i Lyonana, i Lukaku, hanno sfruttato questa cosa. Però ti posso dire una cosa, abbiamo fino adesso, qualcuno di voi, non tutti per carità, però il Milan lo abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento dicendo va Morata, 13 milioni, 5 milioni a lui, per 4 anni più uno, ha 31 anni, va per i 32. Ricordiamo che l'Inter, perché non è tutto oro quello che ha toccato, per quanto Barotta sia il numero uno, però Arnautovic, 34 anni, 10 gol al Bologna, più rotto che vivo in quell'annata lì, è stato pagato 10 milioni di euro. Cioè, ci sono, ecco... Sai qual è il vantaggio delle due operazioni? È che Arnautovic è un panchinaro, ok? Oggi Morata nell'Inter, con tutto il rispetto, fa panchina. Quindi, cioè, il Morata oggi nel Milano è fondamentale perché è un titolare, nell'Inter è dietro l'autore Turano, quindi ha una struttura di squadra che ti consente di sbagliare che poi i risultati ti danno ragione, prega attenzione. L'unico errore clamoroso dell'Inter è stato quello, no, peggio ancora, Correa, pagato 30 milioni, che era voluto da Inzaghi. Però lì ci sta, perché comunque dipende molto dal giocatore. Secondo me il vero errore dell'Inter, a livello finanziario, è stato perdere schiena da zero. E questo è stato l'errore. Ci sono anche i riconoscimenti. Perché sai, un giocatore lo paghi 30 e poi molto dipende anche dal giocatore, no? Poi se il giocatore fallisce, sì, ha investito sbagliato, però perdere schiena da zero, farti prendere per il naso in quell'operazione, secondo me l'Inter ci ha rimesso 50 milioni minimo. Dico una cosa, perché Chirico ti fa... Vengo sempre da te quando Mosconi mi dà una notizia. Ma Mosconi stasera è incredibile. E' spettacolare, è a livelli spettacolari, perché se lo incontri per strada, come è vestito adesso, non guardi neanche in faccia. Ma se lo vedi in redazione, guarda. Però se lo vedi su un pedalotto ti rendi conto della sua forza. L'Inter ha messo nel mirino il difensore classe 2003 dello Zenit a San Pietroburgo, Renan. Costi alti, ma si può fare. Quindi insomma, l'Inter come vedi, il reparto difensivo... Renan, Vasquez, tutti questi giocatori qui... Ci sono nomi che non si è Mosso. Però ripeto, comprimari. E questo la... Sono comprimari che servono... Sì, esatto. Ho capito, comprimai... Io pensavo che fosse un giocatore comprimare. A comprimario, Renan pensavo fosse uno. E abitarsi in via precauzionale. Marcello, Marcello, cosa credi che quest'Inter sia veramente così... Sì, com'è, come sembra. Non ci sono... Adesso io ho voluto forzare la mano trovando, no, questo Martinez... Le nuvole, le nuvole. No, nuvole che in realtà... Cadono le nuvi. Ecco, ma c'è un anti-Inter più forte rispetto all'anno scorso, più marcata, che possa mettere più pressione, secondo te, a quest'Inter? Ma sai, io devo prima vedere anche gli altri come si attrezzano. L'Inter, di fatto, è quella dell'anno scorso, più Taremi, Zeninsky, è qualcuno che verrà aggregato, è hermoso... Sì, secondo me... Però, sai, fin quando non vedo come gli altri affronteranno il campionato di Serie A il prossimo anno, non posso dire con certezza l'Inter vince sicuro. Chiaro, è campione d'Italia, non ha cambiato quasi nessuno. Può darsi che possa abissare, sicuramente. Però, io devo vedere gli altri. Anche perché poi nei campionati non è sempre... Adesso non voglio dire la solita frase, non vince sempre il più forte. Quando uno è forte, vince. Però, alcune volte, succedono delle congiunture all'interno di una stagione che poi ti portano, tipo quella che portò il Milan a battere l'Inter, che era più forte l'Inter in quell'anno, e arrivò poi il Milan. Ci sono congiunture che poi si determinano all'interno della stagione che poi cambiano, cambiano... Marcello, Isagli ha la capacità di gestire nel migliore dei modi gli infortuni e infortunati. Perché ha sempre una percentuale bassissima nei confronti di tutti. Un po' meno le sostituzioni. Aspetta che Morina ha qualche dubbio. Ho sentito delle critiche feroci. Quest'anno non è migliorato. Prima Elena l'ha ricordato, parlando della spina dorsale dell'Inter, ma soprattutto, come abbiamo detto adesso, l'allenatore. Perché Juve, Milan e Napoli cambiano l'allenatore di conseguenza schema di gioco. È vero, è vero. L'Inter parte su qualcosa di... Quello che diceva Elena, di certo, di sicuro. Di consolidato.